Gesù ha sommo bisogno di sfruttare la sua misericordia. Ebbene, accontentalo e ogni qualvolta ti senti pesare le tue miserie, donagliele. Egli non vuole che bruciare miserie. È fatto apposta perché è salvatore. E tu che puoi procurargliene tante, perché ti addolori? Perché invece di guardare alla tua anima non guardi alla sua sete di consumare, annullare miserie? Quante poche sono le anime che comprendono questo. E perciò si tengono sull'anima un putido letamaio che, dato a Gesù, potrebbe essere trasformato in misericordia, che è fuoco. E' come mettere la paglia al fuoco. Diventa fuoco. Perciò adorinanzi tu, ogni qualvolta ti sentirai opprimere dalle tue miserie, godrai d'aver qualcosa da dar da bruciare a Gesù. Grazie a tutti.